Allora, prima di cedere la parola ultima conclusiva sintetica dei lavori di questo convegno alla professoressa Fiorentino, abbiamo a disposizione sette minuti per un'eventuale batteria di domande e osservazioni da sottoporre ai relatori di quest'ultima parte della mattinata. Potete anche introciarvi tra di voi. Per questa dichiarazione, questa dichiarazione è l'esatto contrario per la dichiarazione universale di Dizio dell'uomo, cioè di Dizio dell'uomo valgono che non sono contrari alla sciarina, che viene citata molti volte, non vengono citati gli animali e quindi non c'è una dichiarazione succedanea di questa dichiarazione del gairo sugli animali. Il che significa, ancora una volta, il diritto è liquido. Tra l'altro, questa dichiarazione dei diritti comuni e gli saranno fatta il giorno stesso in cui Saddam invadeva il tuo act, e sarà fatta con la collaborazione dei servizi giuridici del Segretariato Generale delle Nazioni Unite. Pensando di fare un favore, alcuni che hanno firmato la dichiarazione del 48 hanno ritirato la firma, il Pakistan per esempio, per firmare quella dichiarazione. Mi siamo risultati a un, io capisco, tre passi avanti, meno due passi indietro, ma sempre un passo avanti. Però siamo ancora in questa situazione. Sì, raccogliamo prima una serie di interventi, di domande, e poi magari diamo un modo ai relatori di rispondere. Prego. Io sono una voce a cuore dal colo. Però il nome è con noi. Mi chiamo Maria Sacarappa, sono un medico veterinario. Allora, innanzitutto, io sono venuta perché mi ha molto incuriosito il tema della comunicazione in una specie. Mi rendo conto, scusatevi se non lo dico, che è stato un esercizio di stile, nel senso, probabilmente sono io il pesce portacqua e questo doveva essere un consesso tra addetti ai lavori della vostra materia. Ma fondamentalmente ho sentito delle cose che non hanno assolutamente riscontro nella realtà, per esempio. Però mi scusi, non è il momento questo delle considerazioni. Se ci sono domande da rivolgere ai relatori perché se no... Innanzitutto, allora, il discorso se l'animale può soffrire o no. Ma la psicofarmacologia lo ha accurato, voglio dire, nel senso, se stiamo ancora a chiederci se gli animali sono inferiori all'uomo perché sono dotati di ragione o non sono dotati di ragione, come pure Mark Beckhoff, etologo cognitivista, ha parlato di inconsapevolezza degli animali. e non avranno il senso morale, voglio dire, che abbiamo noi, che abbiamo l'etica morale in quanto umani per tutto il nostro background culturale. Ma loro hanno consapevolezza che sono posizionati per qui e ora. Tutto questo per dire cosa? Alla fine, che cosa viene pure da questo convegno? Io lo voglio sapere da voi. Questo voglio sapere. Altri? Dottor Pucco? Vicepresidente Pucco, Università Sapienza di Roma. Sante, volevo... Domanda sempre al professor Apoitano. Beh, a volte parlato di soffi, mi è sembrato di gogliere una certa perplessità su questo ambito giuridico, anche un certo pessimismo. Ora, siccome il diritto internazionale è basato sostanzialmente su trattato, è un diritto partizio, dove lo devo stare per il parto, e un trattato è ovviamente vincolo a due parti, due o più parti, e non tutti, quindi è esattamente il contrario di un diritto universale, di un diritto universale. E volevo chiedere se il problema poi per una reale, concreta e sostanziale salvaguardia dell'ecosistema non sia paradossalmente in un'intrinseca fallata del diritto internazionale. Lo so che è una domanda apparentemente anche provocatoria, però ho colto da lei uno stimolo che volevo fare aggiare in questo senso. La professoressa Ferretti. Ho una domanda per il collega infante, è una curiosità, è un fatto e non so se ha un senso questa domanda. Gli animati nel riferimento che lei ha fatto al racconto biblico e in generale nell'antichità, forse non nei miti di fondazione a cui faceva riferimento, quando gli animati parlassero, parlino di questo racconto, in qualche modo secondo lei si interpreta come una visione appunto più aperta e inclusiva verso gli animali nei vari contesti culturali dove questi racconti emergono oppure solo finzione letteraria. Se posso aggiungere anche io una riflessione su questa cosa dell'animale in India, in cui in effetti io stessa mi ero isolata con questo appunto in contesto degli ultimi anni che abbiamo parlato. Secondo me c'è un tema che riguarda sacralità e apertura attraverso l'animale, cioè una sorta di, forse anche un riverbero del tonelismo per certi versi che si appaccia in questo tipo di miti di fondazione che torna nella letteratura cristiana, cattolica, codificato nelle forme appunto dell'animale che in qualche modo è poco poi la grande ricrede con l'idea di aperto, cioè con l'idea di un animale che è maggiormente in contatto col sacro perché meno segnato da sovrastrutture. Questo mi pare interessante perché pone un altro problema che invece diciamo è quello di una soggettività apparentemente meno strutturata ma che proprio per questo entra maggiormente in contatto con il sacro e vede ciò che noi non vediamo più. Se permettete soltanto tre flash proprio, allora uno di seguito all'altro, la relazione professor Napolitano evoca un diritto dell'ambiente come diritto dell'ambiente, da intendersi come diritto dell'ambiente sull'uomo e non più come diritto dell'uomo sull'ambiente come anticipato da Levi Strossi in un intervento all'Assemblea nazionale francese del 1970, degli anni 70. La relazione del professore infante stimola a pensare non soltanto la comunicazione tra uomini e animali, ma a pensare gli animali stessi in quanto comunicazione, cioè non in quanto semplici mezzi, strumenti di comunicazione, ma come modalità eminente che la natura ha, che lo spirito avrebbe attraverso la natura di comunicarsi. Sì, ultimo flash sulla relazione di Birtolo, il passaggio riguardante la considerazione che Tom Regan fa dei soggetti di diritto come soggetti di una vita, verrebbe da ripensare con Michel Henry che noi vediamo il vivente, i viventi, ma si domandava vediamo anche la vita? Noi parliamo di soggetti di vita, ma la vita la vediamo? La vita di un altro la vediamo? La vita di un animale la vediamo? Tutto. In ordine di presentazione, prima il personale. Allora, io poi lascio la questione sollevata dalla dottoressa Marisa Lantraffa. Se posso, prevento un telegramma, siamo tutti in movimento verso qualcosa, siamo in un già e non ancora, perché è una disciplina che intanto interspecie interdisciplinare è polimatica, come mi piace, cioè utilizzando tutte le discipline a noi di strumenti. Secondo punto, mi torno perfettamente a raccordo con il collega. Per esempio, a tempo attuale, non si è mai vista una conferenza della pace che chiuda un'operazione speciale militare. Dobbiamo trovare un'altra forma, dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. E questo si sta studiando in questo periodo con grande fatica, perché il diritto internazionale è fragile. C'è un bellissimo articolo in cui, che si intitola l'insorferibile leggerezza dell'articolo 51 dell'ONU, cioè l'articolo 51 è quello che prevede il uso della forza, a livello collettivo, cioè la mobilità internazionale che si dipende. Figuriamoci per, se questo è per gli umani, figuriamoci per gli animali umani. è così, cioè purtroppo è così e quello che dicevo a proposito della dichiarazione dell'inizio dell'uomo lo dimostra, insomma. Le nazionalità pensano di fare il favore ai paesi islamici, aiutandovi a coniare un nuovo modello di diritto umano dell'islam e hanno collaborato a redare una carta che è stata portata. Non ce ne sono accorti, ce ne sono accorti adesso, però. Quindi c'è un processo di revisione anche di questa carta, che abbiamo. Quindi, tutto penso quello che sta esercitando. C'è un fatto? Ma io non ho, diciamo, così molto da aggiungere, sono d'accordo, diciamo così, con le osservazioni famiche, con le domande. Cioè, nel senso che 50 anni fa queste cose che abbiamo, diciamo, detto oggi non si sarebbero dette, perché esiste una sensibilità completamente nuova. Cioè, per cui gli animali parlanti, gli animali, diciamo così, sono esseri che a pieno titolo, diciamo, si hanno diritto di vivere all'interno di questo mondo fatto da Dio e in cui esiste un tipo di comunicazione. Cioè, gli angeli parlano all'uomo come se fossero degli angeli. Io ho usato il termine angelo in questo senso. Cioè, essi sono dei mezzi, ma non degli strumenti, sono, diciamo così, forse perché meno strutturati, diciamo così, meno condizionati. Essi sono in grado di farci percepire una vicinanza con l'assoluto che noi abbiamo perso. Cioè, io credo che anche io ho fatto riferimento a quelle opere letterarie, Il Signore degli Anelli, di cui adesso mi pare che stanno maggiando ancora un altro che si chiama. Il? No, non mi ricordo il titolo, ma stanno facendo i vari spinocchi. Esattamente. Però il fatto che abbiano un grandissimo successo di pubblico ci invita a considerare che forse noi siamo andati verso un'eccessiva frammentazione dei saperi, eccetera, e abbiamo dimenticato dei linguaggi che invece sono molto più parlanti dei linguaggi della tecnica della scienza, eccetera. Per cui io credo che parlare dei diritti degli animali, io non sono entrato in questo campo, però io credo che non sia un parlare di qualcosa di fantastico, eccetera. Noi stiamo parlando di qualcosa che ha un fondamento anche nella Bibbia. C'è questo senso, diciamo così, dobbiamo forse rileggere con occhi nuovi. Quindi per rispondere alla domanda della professoressa Fiorentino, non si tratterebbe di finzioni letterarie a partire da quell'approccio? No. Perché la domanda era... Sì, sì, sì. Cioè non è soltanto una finzione letteraria. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, per quanto riguarda la questione dei diritti umani in senso universalistico, lei assolutamente ha ragione. Il dibattito è talmente articolato che ci sono addirittura due carte. Una è la dichiarazione del Cairo, ma poi c'è la carta araba dei diritti umani scritta a Londra in cui la Sharia non viene mai nominata, ad esempio. C'è la dichiarazione africana dei diritti umani, c'è la dichiarazione di Bangkok del 1993 dove gli asiatici mettono prima è venuto allo sviluppo. Quindi sicuramente siamo di fronte non ad un'universalità raggiunta. Babilonia. Sì, sì. In questo senso senz'altro. Diciamo che probabilmente scusate, va bene. Diciamo che provo a vedere in luce come però il discorso sui diritti degli animali riprende alcune linee guida dell'ampliamento del riguardo dei diritti in questo senso. Però sul fatto dell'universalizzazione degli animali assolutamente. Per quanto riguarda la domanda su Reagan la critica che è stata mossa infatti proprio a Reagan è esattamente quella siamo capaci effettivamente di riuscire a vedere la vita degli animali. Molti hanno detto che Reagan ha semplicemente cercato dei punti di somiglianza tra animali e esseri umani ma non è riuscito effettivamente a calarsi nella diversità che viene rappresentata dagli animali non umani. Per quanto riguarda invece la domanda della dottoressa capisco la sua la sua perplessità su alcune cose certo però in questi due giorni il fatto che discipline così diverse dialoghino tra loro e alcune cose che ad esempio a me erano ignote e probabilmente anche a colleghi di altre discipline i colleghi di altre discipline non ci siano soffermati comunque vuole essere una sorta di avanzamento verso qualche cosa sì verso una sensibilità diversa una sensibilità che lei da dottoressa giustamente dice ormai sono cose che si sanno perché ridirle però c'è da dire che io parlo proprio nel mio piccolo quando ho raccontato quando ho detto ad alcuni miei amici conoscenti colleghi che c'era un convegno sui diritti degli animali e sulla comunicazione tra gli animali non umani non ho riscontrato dire ah ma vabbè fate queste cose così scontate o piuttosto tutti hanno riso non sorriso hanno riso hanno detto ma davvero ma perché gli animali hanno i diritti ma perché gli animali possono pretendere qualcosa quindi oppure perché gli animali pensano possono comunicare a me l'ho detto di questo ma così è un convegno di vegani ecco io le dico io le dico che capisco ripeto la sua sensibilità siamo messi male ecco e quindi per questo questa iniziativa voglio dire c'è Adam May Closy che fa la risonanza magnetica al cane sveglio in Ungerì assolutamente come funziona il nucleo caudato cioè voglio dire c'è la professoressa per le conclusioni del convegno siamo veramente allo stremo in tutti i sensi quindi io non aggiungerei nessun commento sul tema perché speriamo poi di diffondere i nostri temi attraverso gli atti di convegno sicuramente l'idea è quella di creare questo gruppo di ricerca interdisciplinare per continuare a riuscire eventualmente anche per azioni un po' più che abbiano una ricaduta come ci suggerisce la dottoressa che non è una voce fuori dal foro ma è una voce che ci ha accompagnato piacevolmente durante questi giorni sulla sensibilità sui diritti racconto un brevissimo aneddoto per chiudere sono stati in Australia qualche mese fa e ci hanno accompagnato in una visita guidata a visitare un molo dove c'è un volume di affari enorme che ruota intorno alle Aragoste e devo dire che per la prima volta perciò queste sensibilità devono crescere io ho provato un grande disagio cioè la visita consisteva nel guardare queste povere bestie che stanno lì a crescere che vengono spedite in tutto il mondo vive ancora vive e noi turisti eravamo invitati a prenderle a infastidirle mentre già vivevano chiuse in queste gabbiette in attesa di raggiungere un peso adeguato e io me ne sono uscita infastidità non mi nascondo mi sono messa a piangere perché cioè è arrivato un momento in cui non siamo più e di giusto che sia così secondo me non è più bello andare in giro per il mondo anche a fare un turismo legato agli animali wild eccetera e avere poi questa sensazione che ti fanno vedere cioè come se a noi ci portassero a vedere le galline magari cioè ma nessuno ci porterebbe in giro a far questo quindi eppure l'Australia non so sembrano paesi così avanzati quindi tante sensibilità vanno ancora coltivate affinate però io anche io volevo chiudere soltanto innanzitutto con un ringraziamento in particolare alle nostre due diciamo guide Rebecca e Marco per avere contemporaneamente gestito l'organizzazione del convegno ma anche avere contribuito al contenuto scientifico cosa che non succede spesso e ringraziamento al mio fantastico collega e anche se posso permettermi di dire al di là dei meriti delle qualità dei contenuti che effettivamente è stata un'esperienza culturale scientifica di incontro che non si trova sempre nei nostri convegni e di conostri in generale accademici non faccio commenti sui convegni anche che il resto del mondo produce cioè i convegni spesso sono ormai dei luoghi vuoti di narcisismo di esibizione se non di altro noi almeno abbiamo avuto la sensazione di avere reciprocamente imparato avere raccolto conoscenze dubbi domande che forse rientreranno nella versione scritta o in future ricerche ed è stata un'esperienza importante insomma abbiamo bisogno anche noi cioè non solo di parlare ma di parlare tra di noi e di parlare con voci opinioni diverse e sì cose che sono scontate per alcuni non lo sono per altri definizioni anche così va un po' avanti la scienza attraverso questo scambio questa costruzione e poi anche devo dire a parte ringraziare gli studenti che ormai poverini vedo rari fatti ma insomma per ovvi motivi il contributo anche molto piacevole diciamo di un pubblico non affollatissimo ma selezionato ora siamo divasti pochi ma colleghi persone che hanno dato appunto contributi ognuno nel suo campo e che fanno capire insomma danno anche un po' un senso alle cose che facciamo però sicuramente migliore speriamo cercheremo di migliorare il nostro modo di riporci e insomma di diffondere le idee va bene grazie grazie un po' grazie